maggioritario, mentre l'area che tira è quella di fare una legge totalmente proporzionale, o no? Innanzitutto noi siamo, direi, l'unica forza politica e con coerenza ha votato a favore del taglio dei parlamentari nelle prime tre votazioni, lo abbiamo fatto anche quando eravamo al governo nel centro-destra, presentammo una riforma costituzionale che prevedeva la riduzione del numero dei parlamentari, poi purtroppo bocciata nel referendum confermativo su iniziative della sinistra. Le altre forze cambiano posizione a seconda se stanno al governo o stanno all'opposizione, cioè cambiare posizione su un argomento di questo tipo, a seconda se uno sta al governo o sta all'opposizione, non è, direi, un rapporto di trasparenza, di coerenza e di lealtà con gli elettori. Noi o siamo al governo o non lo siamo, la nostra posizione è rimasta sempre lo stesso, siamo favorevoli al taglio dei parlamentari. Certo, siamo consapevoli che questo è una riforma malfatta, come tutte quelle che propone 5 Stelle, che poi devono essere corrette in corso d'opera e quant'altro, e Fiano si arrampicava negli specchi per spiegare quante correzioni andrebbero fatte, quanti anni o decenni ci vorrebbero fare le correzioni che lui illustra. Noi riteniamo che la soluzione più semplice, più coerente, più efficiente è quella dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica. E su questo ci siamo sempre battuti e ci batteremo anche in questo contesto, perché riteniamo che quella è la svolta vera nella riforma istituzionale del Paese.